Una collezione impressionante di vittorio per lei e ancora i circuiti internazionali stile L'international competition, campionessa nel mondo in carica, l'attuale world champion, lei è Angela Aiterra E a lei super Angela E che direi già detto tutto e anche per lei il pubblico di alto è pronto ancora a sognare Un'atleta che ci ha abituati bene devo dire in questi anni quindi siamo certi che anche con lei Lo spettacolo è garantito e vale la pena tornare E non fa parte di certo dei record ma mi piace sottolineare questa piccola attenzione che ci ha regalato Angela adesso In partenza forse da sotto gli ombrelli qualcuno se l'è persa ma ha schiacciato il cronometro giusto prima di partire Su quell'orologio che porta al polso sinistro segno anche questo di una grande classe Non bisogna perdere tempo e quando forse lassù si giocherà l'ultimo secondo avrà ancora il tempo per guardare quanti secondi le restano Anche questa è la dimostrazione di una grande atleta 5 Rock Master in Herp Hands 5 Rock Master Vinti Veramente una delle atlete più prolifiche nella storia di questa competizione Ma decidrice anche della Coppa del Mondo del 2004 nel 2005 2006 E poi sempre nelle posizioni al top Bella da vedere e anche a rappicare Is there really a pleasure to run her? Her play major Eh sì eh sì bella e poi devo dire una grinta infinita che a volte ha saputo dimostrare che Si la misura può essere un limite ma se la testa vuole alcuni centimetri a volte spuntano anche al momento Perché ce la ricordiamo bene nelle scorse stagioni al Mondiale al Rock Master Quanto veramente è riuscita ad andare là dove qualcuno forse diceva no non è possibile E lei seppur non troppo alta, non troppo lunga, la c'è arrivata perché forse ci ha creduto un po' più dalle altre Allora grande è anche la faccia E allora dimostrazione sia nel panamone direi Questi voli, questi incredibili pazzi a conquistare quelle prese impossibili The same was a rune, flying, wheelie, bow bow and bolts to the order on the Rock Master World Ma guarda che c'è una scarpa La persona, quella qua, ma la vila, guarda quella che è roba Ah, il ventolare, il ventolare della macacollaria l' Una ragione di il lavoro La generale della cucinale informazione Una fortuna di il piano, la settore delle altre E gli uomini Seve un servizio al terribemis dimamma Certaine manga, un sonooresti la danza di Angela Heiter sulla parete gianna di Rockmaster ciao ti tuati bene Angela ciao veramente viziati ecco questa anche la fatale viene come on eh si sale si sale l'ultimo atleta con questa Rob outside Angela Heiter from Austria belle linee anche questa volta Donato, Lella Gerardo Di Marina e Gigi Vindoro entusiastante entusiastante di certi famigli atleti che hanno giocato la World Pro outside lead te assi e raccogli a adde cond Alla prossima Ancora una volta, come dicevamo, nessuna presa lontana Ancora Heiter, da allora fuori lungo Ma adesso si rientra Come on Heiter Very high, anche da Heiter If you want to see her higher, vogliamo vedermi ancora più su Che ne tiene la bandiera adesso, fuori, alle Comento questo passaggio, a cercare i piedi, si rientra a destra Ancora Heiter sulle prese, ultima di questa Onside leader, a salire qui in alto, a provare a andare oltre Come on Heiter, come on Come on Heiter, la prendiamo su Cercare di appiappare la mano, vede Mi faccio veramente bene Quanto mi faccio? E la posizionamento, vede la mano È davvero più bella Abbiamo una soluzione per moschettonare lì dove la gravità adesso è veramente forte Ancora Heiter Si va oltre, alle E la sua ormai verso i 40 movimenti Lì dove c'è tanto colore verde, tanta resina, ma di certo poca disponibilità Bene Recuperare, meglio andare via Andiamo, alle Alle, 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 dai Arco Fuori la voce, da sotto gli ombrelli Angela Heiter, alle Laura Heiter'ehm Grazie a tutti.